Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì manda la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo insieme all'amico Davis che abbiamo qui che si sta un po' informando. Sì, salve, buon pomeriggio. Dunque, voi sapete che nell'ultima trasmissione abbiamo parlato un po' di quello che è successo durante la conferenza, mentre invece nella trasmissione di oggi continueremo a definire il crogiolo del male. Cioè, vorrei ricordare un attimino, mentre la libertà e il fatto di ricercare una libertà di percezione, ricercare lo sviluppo di se stessi, ricercare la dilatazione di se stessi, è sempre e comunque un atto di volontà soggettiva, cioè una scelta soggettiva, e il fatto di essere messi in ginocchio, di essere truffati, di essere imbrogliati, di essere sottomessi, è invece un'azione che dall'esterno viene fatta sull'individuo. Non è mai una scelta dell'individuo. Magari dopo un po' diventa scelta dell'individuo, ma inizialmente non è mai una scelta dell'individuo. E noi trattiamo il crogiolo del male, praticamente da dove è nata l'idea di scrivere il crogiolo del male? È nata da una speaker di questa radio che parlando con me, lei la trasmissione mia non gli piace, esponendo le sue ragioni praticamente si è fatta mercurio. Cosa vuol dire farsi mercurio? Niente, che lei è stata da tramite fra il mondo che ci circonda e me. E mentre lei parlava, esponendo le ragioni per cui non gli piaceva la mia trasmissione, non gli andava la mia trasmissione, praticamente lei mi ha comunicato che io devo fare delle altre cose, e me le ha comunicate proprio perché Mercurio è passato attraverso lei per comunicarmi questo. E da qui è nata l'idea di scrivere il crogiolo del male. Naturalmente sono tutte cose che già si davo per scontato, tutte cose che ormai avevo vissuto e che sto ricordando, cioè sto tirando fuori, sto rivedendo, rianalizzando in questo momento. Naturalmente le cose che dico non sono assolute, cioè ci sono milioni e milioni di cose che io tralascio, un'infinità, e chiunque può andare a cercarsi quelle cose e verificare se i meccanismi, perché quello che a me mi interessa, io sono un meccanico, ricordatevi sempre, a me mi interessa mettere in luce il meccanismo, cioè se il meccanismo che io metto in luce è reale, è vero, oppure è falso, e voi potete andare a cercarvi, se qualcuno ha voglia di farlo, gli elementi che sbugiardano quanto io dico oppure confermano quanto io dico. Preferisco un'attività del genere rispetto a chi invece incapace di guardarsi attorno preferisce insultare, è chiaro che accetto benissimo anche gli insulti, però se qualcuno vuole effettivamente combattermi, se qualcuno vuole mettermi davvero con le spalle al muro, deve fare una cosa, deve sbugiardare i meccanismi che io metto in luce, non tanto le cose, perché magari le cose possono anche essere imprecise, possono essere non dette bene, possono essere messe anche, ma in fondo io non ho cultura, io sono un apprendista stregone, non ho studiato all'università per cui ho quella razionalità nel mettere giù le cose, quell'ordine, quella precisione. Quello che a me mi interessa è mettere in luce i meccanismi, allora se qualcuno vuole effettivamente battere, vuole combattermi, deve analizzare quei meccanismi e vedere dove io sbaglio, dove io non colgo, dove io non vedo. Faccio un esempio di questo, per esempio è stata preziosa per me la trasmissione di Ivano e la Laura domenica scorsa. Nella loro trasmissione hanno messo in luce il meccanismo di truffa fra Isaù e Giacobbe. Mentre loro parlavano, dicevano le loro cose, tutto sommato condividevo, io ho pensato un'altra cosa ancora, ho pensato che non c'è solo l'attività del truffatore, ma c'è anche l'insegnamento di chi viene truffato. Cioè chi viene truffato come reagisce? Cioè quando chi viene truffato non reagisce reclamando giustizia, ma reagisce quasi accettando il diritto di essere truffato, è un insegnamento di sottomissione. Allora mi ha permesso anche di fare questo tipo di ragionamenti. Per cui tutto quello che viene messo in luce per combatterlo, per distruggerlo, è inutile che mi attaccate personalmente o direttamente, tanto quello che io dico lo posso provare, è vero, e quando mi attaccate significa che voi non solo condividete che quello che io dico è vero, ma avete addirittura paura che venga mascherata le bugie che voi sostenete, cioè che voi affermate. Allora se volete davvero attaccarmi dovete distruggere i meccanismi, cioè dimostrare che i meccanismi che io metto in luce sono falsi. Questa è l'unica cosa che vi resta da fare, non ce ne sono altri. E tutti quelli che mi attaccano mettino pure il cuore in pace. Che dici Davis? Non c'è niente da dire. Niente da dire. Va bene, allora io concluderò oggi il crogiolo del male. Cioè concluderò, non il crogiolo del male, scusate, la gabbia, cioè quello che sono i preludi, tutto quello che chiudono l'individuo. Cioè il crogiolo del male, la sottomissione può avvenire perché le persone vengono costrette a subire certe cose. Le persone costrette sono come il cane di Pavlov nella gabbia. Cioè è la gabbia che chiude il cane dentro, per cui Pavlov può fare i suoi esperimenti e farlo salivare quando sente le scarpe dell'inserviente che li porta da mangiare. Cioè praticamente i riflessi condizionati del cane possono essere immessi e imposti soltanto perché il cane è dentro la gabbia. Se il cane fosse libero nella foresta non si potrebbe inserire gli riflessi condizionati. Non si potrebbero condizionarli né nel pensiero né nella salivazione, in nessun'altra cosa. Bene, oggi parleremo le dicerie e la famiglia, la gabbia. E poi un altro paio di capitoletti in merito. Il cristianesimo, per costruire la trappola mentale e ideologica all'interno della quale distrugge il divenire degli esseri umani, mette a punto una serie di dicerie che spaccia come sapere con le quali ingabbiare i comportamenti delle persone. Dice il pazzo di Nazareth C'è ben più di Salomone qui. Le dicerie erano la sapienza del male attraverso il quale distrugge il divenire delle persone, la loro capacità di determinare il loro divenire nell'oggettività in cui vivevano. Le dicerie, in molti casi, sono presenti nelle società pagane, ma rappresentano delle cose secondarie, spesso delle superstizioni senza valore. Il cristianesimo nasce e si sviluppa nei bassi fondi sia morali che culturali delle società pagane. Egli eleva a sapere gli scarti del sistema sociale ed usa la diceria per imporre un comportamento colpevolizzando le persone più deboli. Leggiamo dalla pratica dell'abbandono dei bambini in Europa di Boswell. Inoltre, le credenze popolari circa le cause dei difetti fisici stiamo parlando di robe grosse qua, eh? Le cause dei difetti fisici che potevano anche spingere all'abbandono erano entrate a far parte del sistema etico ufficiale. Le coppie cristiane non potevano avere rapporti sessuali durante le mestuazioni. L'allattamento, la quaresima, ricordiamo come l'astinenza dalla carne e significa astinenza dei rapporti sessuali, non l'astinenza da mangiare carne, eh? E nemmeno la domenica, ed era una credenza diffusa, quella secondo cui, violando queste regole, sarebbero nati figli deformi. Dunque, se nasceva il figlio deforme, era colpa tua che avevi peccato. Attenzione. La diceria come sostituzione al chiedersi il perché delle cose. La diceria per colpevolizzare chi non si adegua o non si pensa che si adegui. La diceria come strumento di controllo sociale e comportamentale. Mormorare, spettegolare, calunniare, denigrare, diffamare, sparlare. Attraverso questo si costruisce il controllo militare messo in essere dal cristianesimo nei confronti degli esseri umani. E il cristianesimo può fare questo perché la giustezza della sua fede non è nei suoi principi o nei suoi dogmi, né in una millantata verità. La giustezza della fede un cristiano la trova nel fatto che tutti pensano come lui, tutti ammettono le stesse cose, tutti si adeguano. Chi non si adegua è il satana, il nemico che vuole spargere di zania, non l'essere umano che tenta di costruire se stesso. La diceria, la calunnia, lo spettegolare e il diffamare è l'arma più potente che il cristiano si è dato fino a quando la velocità di verifica delle affermazioni ha contribuito a disarmarlo. Dove vai se la fede nel cristianesimo non ce l'hai? Potremmo far frasare. Quando l'arma delle dicerie, della calunnia, del denigrare e del diffamare non hanno ragione di essere, quando l'individuo trova la certezza delle sue affermazioni dentro di lui, quando non ha bisogno di nascondersi dietro la sapienza di qualcun altro, ma usa quanto trova lungo il suo cammino per costruire la sua conoscenza. Quanta fatica deve fare l'individuo che non si adegua alle consuetudini? Quanta fatica deve fare il maschio che non voleva picchiare la moglie fino ad un centinaio d'anni orsono? Quanta fatica doveva fare una famiglia che voleva dare un'educazione culturale alla figlia femmina fino a qualche decennio fa? Subito la gente mormorava, il parroco accusava, qualcuno malignava, qualcun altro spettegolava, si era indicati a dito, si era calunniati dagli altari, si mormorava nelle orecchie dei carabinieri che erano stati educati a considerare il prete un'autorità. La maestra e il maestro sequiosi nei confronti del prete, portano i bambini in chiesa, li costringono ad allestire il presepe, chi non si adegua viene calunniato, viene denigrato, viene diffamato. In molti paesi e in molte parrocchie esistevano delle vere e proprie tech force di bigotti e bigotte, pronti a segnare a dito e a perseguitare l'oggetto della calunnia, del pettegolezzo e della diffamazione, e vedremo come queste tech force esistono anche adesso. È un vero e proprio controllo militare sulla famiglia, affinché si idegui ai canoni religiosi e morali socialmente imposti. In questo si muove la famiglia nella costruzione della propria sopravvivenza. Per concludere l'introduzione del concetto famiglia, esploreremo quanto ci dice Armanda Guiducci nel suo La mela e il serpente. Ne estraremo solo alcuni passi. Sangue, stupri, guerre, invasione e lotte di religione, barbarie e cattolicesimo. Secoli d'Occidente hanno letteralmente plasmato la sua parte, la sua assegnazione femminile nel mondo, e un buon secolo di borghesia trionfante le ha dato la sua impronta, uterina e ornamentale. E ancora, un maschio, che bellezza, femmina la primogenita, femmina l'altra e la terza, femmina ancora, adesso è nato l'erede, e guardava teneramente mia madre, e mia madre fu redenta. E ancora, dopo che l'erede fu nato, un che di grandioso si aggiunse alla fisionomia di mia madre, avendo generato il sesso opposto, il suo viso acquistò in sicurezza e nobiltà, per fino oggi il viso di mia madre, domani compirà tre quarti di secolo, e festeggeremo il suo compleanno all'ombra della morte, non è semplicemente disfatto fra le rughe, un viso materno, imponente e tenero, sigillato dall'orgoglio di mio padre e della madre di mio padre, e dei fratelli paterni e dell'intera scendenza maschile della nostra stirpa e società, e di lei stessa, infine, è il viso della madre di un uomo. Così la parola femmina, col suo suono dall'alto in basso, si impresse sopra di me come un marchio, il marchio sociale della subalternità. Infine, incominciai a rosicchiarmi le unghie, con accanimento selvaggio, fino a farne sanguinare, e sempre, immerso in quello stato d'animo, ringhioso, succhiavo, inorridita e deliziata, il sangue che ne gocciolava. Me lo intinsero in una sostanza amara come il fiele, che si chiamava aloe, se ben ricordo, e io mordevo più a fondo, e il sangue spillava più scuro e più rosso. Me lo intinsero di tintura di iodio, non a caso, nei lunghi anni, infantile ho chiamata tintura d'odio, acre e marrone, ma non così disgustosa. Al fine mio padre giurò che me le avrebbe ficcate nella M puntino puntino, non so se nella mona o nella merda. Da allora non ho più smesso questo vizio, nel quale gli psicanalisti rintracciano una rabbia del bambino per la mammella sottratta, una difficoltà nello svezzamento e, insomma, una richiesta d'amore protratta. Mentre le delicate pelli intorno all'unghia, più volte lacerata, si enfiavano, trovai a rancore un altro sfogo nella disobbedienza totale e assoluta. Quasi risento i battiti protettivi del cuore, il furibondo senso della rabbia che si placa a stento alla vista dei miei genitori disperati, che si scambiano mute occhiate di soccorso. Ed ecco il corpo di mio padre incomincia a vivere. A quest'epoca per me le sue mani, dalle palme spesse e larghe, le dita grosse come cattocci calano stafilate sulle mie gote. Interi giorni ne porto il marchio, cinque strisce rosse e aperte mi scottano di rabbia e rinnovano l'issombordinazione. Non passa giorno che la mano massiccia non si schianti sul mio viso, fra le grida di paternità offesa. Io tengo il mento alzato, ridacchio persino. Ti ucciderò, grida a volte mio padre, ti massacrerò di botte. Mia madre in un angolo torce gli occhi gialli di qua e di là. Fiata appena, quando è troppo tardi, il ciclone ha già spezzato tutto dentro di me. Ha lasciato mio padre ansante. L'ammazzerà una volta o l'altra. Ma poi si butta subito al collo di mio padre e geme. È perversa questa bambina. Io non ho la forza di educarla. Concludendo. È un maschiaccio, gemme mia madre, guardandomi come se non le appartenessi neppure. Una volta mi guardò fissa e soggiunse. Ti devono aver scambiato nella culla, figlia mia. È un maschiaccio, ma io la domerò con la frusta, esclama mio padre. E le palme massicce delle sue mani pesanti si gonfiano scarlatte e fischiano nell'aria. E calono da un'altezza scottante. Occupano il mio intero viso. Le palpe gonfie di pungente rossore invadono l'intera stanza. Il pollice rimbalza sul soffitto con un tuono sordante. Il miglioro gigantesco picchia sul pavimento, che vibra, mentre io mi piego sotto la raffica, in giù, trascinando le ginocchia contro lo spigolo del miglioro di mio padre. Questo è il concetto cattolico di famiglia. E poi vedremo in seguito come questa roba è avvenuta 25-30 anni fa e a tuttora attuale. La gabbia entro la quale il bambino viene circoscritto è la famiglia. La famiglia costituisce la gabbia attraverso il ruolo che i genitori si assegnano nei confronti del figlio. È la violenza con la quale quel ruolo impongono. La bambina e il bambino si possono anche ribellare a quanto loro impongono, ma nel far questo devono lasciare sul terreno sia energia, sia possibilità di trasformazione. In altre parole, la guerra per la costruzione della propria libertà comporta un tributo che distrugge il proprio divenire. Il concetto di famiglia è il primo concetto che i cattolici hanno piegato per costringere l'individuo a sottomettersi. L'amore filiale non è mai esistito e nemmeno l'amore della mamma. Esiste il bisogno dell'essere natura e di alimentare la propria specie ed esiste il piacere nel farlo, ma non esiste l'amore. L'amore dei cattolici è il piacere del possesso a cui il posseduto deve sottomettersi. Soggettivare il piacere del possesso chiamando l'amore è necessario per, scusate, soggettivare il piacere del possesso chiamando l'amore è necessario trasferire sull'oggetto posseduto una serie di bisogni naturali insoddisfatti trasformati in fobie ed ossessioni. Le fobie si costruiscono castrando sia la sessualità umana che il bisogno di rispondere alla libertà obbedendo agli stimoli di necessità proprie della specie. L'azione su questi due elementi impedisce all'individuo di costruire il proprio divenire. E adesso vediamo la distruzione emozionale. Cosa ci si aspetta da un figlio femmina? Da Elena Giannotto Belotto dalla parte delle bambine e di Gianni Feltrinelli. Dalle bambine ci si aspetta che, uno, sono più affettuose. I genitori si aspettano di essere più amati. I maschi non sono per niente affettuosi. Due, sentono più gratitudine. Orrendo ricatto, si delinea. Ai maschi non se ne chiederà mai altrettanta. Tre, sono carine e civette. Un oggetto, una cosa con cui giocare. Quattro, vestirle da soddisfazione. Non valgono per se stesse, ma per il loro aspetto. Non è la loro intelligenza che si apprezza, ma la loro bellezza. Cinque, fanno compagnia in casa. Nessuno si aspetta che un maschio faccia compagnia. Appena può, se ne va fuori casa. Poi vorrei vedere se è vero al giorno d'oggi. Sei, aiutano nelle faccende domestiche. Non solo ci si aspetta che i maschi lo facciano, ma glielo si impedisce a ben altri metri e sono destinati. Apparentemente il discorso è contro le donne, l'educazione che distrugge il divenire dell'essere umano femminile all'interno del sistema sociale in cui viviamo. In realtà è un punto di partenza, un bandolo per districare la matassa della coercizione educazionale. Proviamo ad usare gli stessi punti e leggerli al maschile. Uno, si impedisce al figlio maschio di esprimere affetto quando lo potrebbe fare. Lo si fa sentire come una femminuccia, un gay. Lo si costringe ad essere duro, distaccato, freddo. Così si costruisce l'indifferenza alla vita. Come si costruisce il disprezzo per chi arranca per costruire. Come si acceca il sentire che dal circostante giunge all'essere umano maschile. Due, vengono educati a non essere grati, a pensare come tutto sia dovuto, a pensarsi al centro degli interessi. Così come si costruisce l'identificazione col Dio padrone. Tre, un maschio non deve essere carino, non deve affascinare quanto lo circonda. Egli è educato ad appropriarsi del mondo, a ostentare i suoi muscoli, la sua forza. È educato a stuprare il mondo. Così si insegna a disprezzare la vita stuprandola. Quattro, non è necessario che si presenti. Egli è maschio, cazzo, muscoli e cervello devono essere accettati per il ruolo sociale ricoperto. Se non ha un ruolo sociale allora non ha cazzo, non ha muscoli, non ha cervello. Da qui come le perversioni di dominio del ruolo sociale. Il maschio è spinto ad uscire di casa, a lavorare per mantenere la famiglia, in realtà a costruire nuova dipendenza. Con la crisi del lavoro e degli alloggi la famiglia si è praticamente sottomessa al figlio maschio, giungendo a mantenerlo anche oltre i 30 anni. Sei, il figlio è allontanato da casa anche impedendogli il coinvolgimento nella manutenzione domestica che non sia quella di impedire l'autonomia femminile, vedi il rubinetto e la spina elettrica. Gli si impediscono i lavori domestici disprezzandoli come roba da serve, cose da individui inferiori e sottomessi. Così nasce la necessità di usare i servi per soddisfare i propri bisogni, data l'incapacità psicologica educazionalmente imposta. Da qui si deduce e questo ho risposto anche all'amico prima, da qui si deduce che il sistema repressivo all'interno dell'educazione ha uno scopo che va oltre la distinzione del ruolo sociale di maschio e femmina ma costruisce i fondamenti e gli indirizzi organizzativi del sistema sociale in cui si vive. Questi elementi di divisione attraverso la coercizione educazionale tenderanno progressivamente a sparire quando il sistema sociale in cui si vive troverà nuovi argomenti per imporre i ruoli sociali. La divisione maschio e femmina ci permette di porre le basi sulla distruzione del sistema emozionale degli individui al fine di costruire il ruolo del sistema sociale a garanzia della capacità di controllo del comando sociale. In questo momento si assiste all'inconsistenza di una pretesa intelligenza maschile dell'organizzazione e del controllo del sistema sociale e una sempre maggiore necessità da parte del comando sociale di ricorrere all'intelligenza femminile. La capacità razionale dell'essere umano femminile è sicuramente più elastica ed utile di quella dell'essere umano maschile. Inoltre è in crescita in quanto il suo ruolo sociale è in espansione mentre assistiamo nei paesi occidentali ad un'involuzione della capacità di determinazione dell'essere umano maschile. Non è solo la percentuale dell'incidenza del lavoro femminile in quelle categorie che da sempre erano riservate ai maschi ma è una tendenza alla regressione delle capacità generali dei maschi di ricoprire quei ruoli. Ciò che un sistema sociale non aveva considerato erano gli effetti della rottura della coercizione militare assoluta. La rottura della coercizione militare ha portato il sistema sociale a degli adattamenti più vicini alle determinazioni dell'essere natura in aperta contrapposizione a terroristi sociali come Agostino e Tommaso d'Aquino. Mentre il sistema sociale articolato sull'ordinamento religioso non lascia spazio alla variazione dei ruoli il sistema sociale basato sugli interessi e le relazioni economiche permette la variazione dei ruoli sociali purché queste variazioni siano funzionali alla stabilità e allo sviluppo sia dell'economia che delle relazioni stesse. Cosa è dunque successo? Scusate un attimo. Cosa è dunque successo? Il sistema dei ruoli è saltato quando quei ruoli non servivano più ma anziché saltare in modo cosciente la rimozione di alcuni aspetti della coercizione educazionale ha prodotto degli adattamenti sui caratteri naturali dell'evoluzione questo è un altro aspetto di questo parleremo nel crogiolo dello stregone il sistema sociale saltati gli schemi deve procedere a un diverso riadattamento degli stessi bene questa è la gabbia e c'è un ultimissimo appunto che dobbiamo fare per non essere fraintesi la stregoneria il crogiolo del male e le classi sociali povere un capitolo a parte merita il crogiolo del male relativo alle classi sociali povere la costruzione della miseria atto delle classi sociali ricche veniva vissuto come aggiunto all'elemento distruttivo del divenire umano per un pagano un povero ha diritto di prendersi quanto gli serve è compito del sistema sociale costruire un equilibrio al suo interno affinché non immiserire nessuno ma quando questo non avviene quando la miseria si aggiunge come aggravante alla costruzione dell'orrore allora aumenta il terrore e l'orrore eppure anche se è struggente la storia della bambina che tutto il giorno correva per portare acqua ai contadini e veniva pagata con un po' di cibo da la donna non è gente fra parentesi o l'abitudine di prendere abbastonate la moglie che supplicava il marito di usare le mani in quell'orrore non c'è la radice né l'origine dell'orrore se cercate l'origine delle infamie dei guardiani delle galere dei campi di sterminio dei roghi dell'inquisizione della mattanza degli esseri umani non cercate nelle galere nei campi di sterminio e nei processi inquisitori ma cercate nei palazzi nella formazione del pensiero perché se è vero che pur di distruggere la società degli esseri umani c'è sempre qualcuno usa obbedire tacendo c'è sempre qualcuno che blocca il cervello all'obbedienza l'origine del crogiolo del male non sta nelle vittime che il crogiolo produce si è che queste siano vittime di un padrone a loro volta guzzine di chi è di loro più debole ma chi fa di quelle esistere giustificazione morale etica e giuridica il male sta in chi tenta di trasferire l'orrore della distruzione nel cuore e nei comportamenti degli esseri umani per impedire loro di costruire un futuro diverso chi mescola il crogiolo del male non ha futuro il suo futuro lo ha perso nel momento stesso in cui è diventato quel crogiolo e l'unica cosa che gli rimane è quella di distruggere negli esseri umani la possibilità di costruire il loro potere di essere chi vuole individuare il crogiolo del male non può esaltare il povero come buono non può esaltare il buon selvaggio se facesse questo ingannerebbe la propria attenzione concentrandola sulle azioni estrane dagli intenti e dall'oggettività in cui l'intento agisce attraverso lui chi vuole impedire al crogiolo del male di entrare dentro il suo cuore deve combattere battaglie molto violente perché tutto attorno gli indica come sia più facile appropriarsi che costruire se si voglia individuare i meccanismi del crogiolo del male è necessario spostare lo sguardo dalla miseria è necessario cercare i meccanismi di formazione del crogiolo del male fuori dalla miseria la miseria acceca la ricerca la miseria e l'orrore che produce rende furioso il ricercatore gli annebbia la ragione impedendo l'intento di individuare quegli elementi che formano il crogiolo del male e trasferirli nella ragione stessa la miseria è un prodotto del crogiolo del male ed è il prodotto che nasconde il crogiolo del male proprio per consentirgli di continuare a riprodurre la miseria il cacciatore di consenso non può annebbiare la sua attenzione mentre ricerca il meccanismo di funzionamento del crogiolo del male anche se la miseria tenta di afferrargli l'attenzione e distruggere l'intento che lo spinge bene c'è una telefonata in arrivo però prima di prendere la telefonata voglio dire due cose perché qualcuno potrebbe dire ma queste sono robe vecchie siccome queste non sono robe prendo le telefonate fra qualche minuto queste non sono robe vecchie io infatti ho due ritagli appena avuti dalla Repubblica del 9 febbraio 1998 cioè qualche giorno fa 9 febbraio 5 giorni fa lecce anni di violenza senza essere creduta anche la madre sotto inchiesta il padre la stupra resta incinta ha dato la luce a una bambina in manette l'uomo questo è 5 giorni fa e peggio ancora e questo è di ieri e lo trovate sulla Repubblica di ieri il boom del libro per genitori botte e cinghiate ai bebè gli autori propongono un ritorno ai tempi delle cinghiate e delle pene corporali in nome di un'educazione più civile e cristiana il loro approccio duro viene insegnato ogni settimana in oltre 6.000 chiese fondamentaliste sparse in tutti gli Stati Uniti mentre il loro manuale di educazione pratica educare i bambini secondo Dio viene seguito dalmeno 70.000 genitori della destra cristiana attenzione ancora attraverso il metodo Ezio si chiama metodo Ezio questo i due genitori promettono invece di riuscire questi personaggi qua di riuscire a far diventare i pargoli attenzione figli educati amorevoli e che lavorano sodo i due geni i due conugi lui con un master in teologia lei infermiera per ora si difendono sostenendo che il loro metodo beh hanno fatto tante cazzate perché hanno costruito un casino di porcheria però loro si difendono sostenendo che il loro metodo si fonda sul buon senso e che i loro due figli adolescenti sono due figli modello questi qui hanno venduto qualcosa come 200.000 copie su prendere figli a cinghiate ora una persona che non è capace di avere la sensibilità di conoscere il mondo che lo circonda come può cioè non riesce a conoscere neanche i suoi figli non riesce a conoscere neanche le tensioni che dai suoi figli arrivano verso di lei come può conoscere il mondo che ci circonda pensate a che miseria che distruzione è avvenuta questa se volete ne ho ancora degli altri ma dunque adesso possiamo anche prendere la telefonata che ora dici si arriva si si arriva e vado avanti vado avanti sono berine ronde di ultracattolici nel club degli scambisti questi qua faranno ronde dove si passano dove fanno rapporti sessuali scambiandosi copie come se a loro gliene fregasse qualcosa di quello che fa la gente quando non c'è violenza per noi va bene tutto il problema è che non ci sia violenza questi qua si rifanno attenzione è sulla repubblica ma c'è anche sul gazzettino 18.2.98 cioè di ieri praticamente c'è anche sul gazzettino la notizia ed è pari pari solo che a mia moglie ho fregato solo la repubblica ieri ci rifacciamo all'inquisizione quando c'era la caccia alle streghe che non erano che prostitute che utilizzavano la loro bellezza per ammaliare uomini di ogni rango cioè questo è veramente via di testo cioè tenete a pensare che non solo ha una visione storica distorta ma effettivamente sta tentando di imporre con la violenza perché questi qua adesso faranno delle ronde organizzeranno delle ronde non è che mi preoccupa ci penserà a poesia non mi preoccupa ma quello che mi interessa è il concetto mentale cioè tu devi fare quello che voglio io se no io a te ti frego ti taglio vediamo un attimo pronto? pronto? sì? sono un'ascoltatrice di Bassano dimmi tutto seguo da tempo questo programma lo trovo molto interessante però come me anche altri ascoltatori fanno fatica a seguirla perché lei va troppo in fretta dovrebbe parlare un po' più con calma ad agio perché tante cose sfugano forse in inglese ecco tutto lì sì va bene? grazie ciao grazie dunque allora ha ragione intanto l'amica mia io vado molto veloce perché penso di non aver mai sufficiente tempo per dire tutto quello che devo dire un po' perché ritengo che il tempo che ho a disposizione sia poco in realtà non è vero il tempo che ho a disposizione è giusto e va bene così e un po' perché penso di poter morire fra 30 secondi se muoio fra 30 secondi non ho più il tempo per dire quello che devo dire è un po' fa parte un po' della mia vita no? no è che l'azione deve sempre essere più veloce del pensiero deve superare il pensiero per venire con gli ascoltatori sì no effettivamente è una grossa è una grossa critica lo prometti? no sarà difficile io posso promettere ma dopo non tengo dopo un po' ti risca un'altra telefonata? eh sì vediamo un attimo pronto? pronto? ciao Marco e volevo correggere un momento fa quello che è un concetto che ti sento esprimere spesso sì vai vai quando parli dei cristiani che fanno per esempio come adesso le ronde lì per bloccare i club dove ci sono lo scambio di cose perché non è che loro in un certo senso fanno questo perché vogliono farti fare quello che vogliono loro ma è per ubbidire alla legge di Dio che Dio non permettendo questi queste azioni che sono considerate dei peccati vergognosi e automaticamente loro si mettono a prendere il posto di Dio e danno una mano a Dio per bloccare queste cose perché secondo loro Marco scusa ma non ti sembra che vogliono farmi fare quello che vogliono loro cioè se io voglio fare scambio di coppia non posso farlo perché loro non vogliono lo so ma loro non agiscono per volontà propria agiscono per per difendere quella che è la legge di Dio che secondo loro gli uomini e visto che nella Bibbia nelle Sacre Scritture Dio ha dimostrato più volte di scagliarsi in modo violento e anche mortale contro chi commette peccati specialmente peccati di questo tipo chissà perché però danno solo fastidio i peccati impuri mentre lasciano perfettamente che si rubi dappertutto e anche credo che in Vaticano di cose io ho una bella notizia da no non vanno a fare le ronde ecco io contesto questo cioè dovrebbero ergersi a a difensori della morale e di Dio e della legge di Dio anche in altri campi Marco mi senti? si dai ti ascolto adesso ti dico una cosa ho una notizia no? sempre dal gazzettino del 12 febbraio si volevo solo dirti questo ti ascolto per radio ciao 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 allora intanto grazie a Marco e grazie anche che la radio io ho una notizia io ho una notizia sempre dal gazzettino del 12 febbraio 1998 in cui in California hanno scoperto che l'acqua che ha una sostanza l'acqua dei rubinetti no? che ha una sostanza la trialometani 75 microgrammi per litro fa abortire effettivamente attenzione il Vaticano e la Chiesa e i cattolici si scagliano contro la donna che abortisce ma non si scagliano contro l'acqua inquinata che fa abortire e perché? perché loro non è che ce l'hanno contro l'aborto attenzione alla sottilezza loro ce l'hanno contro l'opporsi alla volontà di Dio in pratica dicono che l'acqua che è stata inquinata da qualcuno e che fa abortire fa parte della volontà e del disegno divino per cui non gliene frega niente mentre invece la donna che decide di andare a abortire non fa parte del volere divino ma lei viola quello che è la volontà combattere la volontà di Dio cioè solo per questo i cattolici c'erano quell'aborto vorrei che fosse chiaro che è veramente assurdo cioè l'acqua che ti fa abortire quando una vorrebbe partorire non è una cosa grave mentre invece il fatto che la donna sceglie di abortire piuttosto che costruire miseria è una cosa grave cioè è veramente allucinante non so ci pensate stesso ragionamento uno muore ecco è la parte del volere divino magari esatto veramente è folle e addirittura proseguendo il ragionamento se non so succede qualche disgrazia così sempre volere divino anzi dirò di più colpa del malvagio tu stesso pecatore anzi ti sei meritato il castigo si ma allora se io sono qua secondo questo ragionamento è per volere divino i misteri della fede i misteri della fede misteri della fede è vero lo dicono anche loro oh il primo martire dell'est ricordatevi sempre quando la chiesa cattolica fa qualche martire qualche santo è sempre una dichiarazione di guerra perché davanti al santo al martire mette in ginocchio le persone le persone in ginocchio sono uno strumento di pressione sociale questo qua è dunque Eugenio Bossikov fatto fuori dalla polizia stalinista dicono in realtà è stato fatto fuori perché lui era cristiano e voleva imporre la proprietà delle persone in un paese che tentava di socializzare le cose è una guerra politica andata in un modo prima è andata in un modo adesso domani andrà in un altro modo l'unica cosa che speriamo è che gli uomini riescano a trovare una via di libertà comunque fare santo questo adesso vuol dire mettere in ginocchio delle persone e avere pressioni in Bulgaria per far fuori la chiesa nazionale bulgara qua se la stanno giocando avere un milione di fedeli significa avere sovvenzioni avere finanziamenti questo è un gioco molto sottile faccio il santo per gli zingari così mi assicuro che gli zingari si mettano in ginocchio faccio il santo di questo perché così ho l'approvazione dell'altro vado a Parigi dico che bei concetti dice voi che bei concetti torna e fa santo invece quella che ha combattuto contro questi principi Borgia diventa papa e fa santo qualcuno della sua famiglia sì esatto o non so magari mettiamo anche qualche regnante e tra poco anche se fosse Diana sì vero servirebbe per entrare in Inghilterra per far fuori la chiesa anglicana Claudio sai cosa mi viene in mente adesso ho pensato la definizione di monoteista o monoteismo del Dio assoluto e proprio perché uno mi dà il senso del limite non so se pronto pronto sì ciao 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 a tutti ciao cesarina dimmi tutto cesarina senti un momento ma mi domando sempre che senti che è Paolo ciao 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 mi dico mi viene semplicemente valeisa che aveva madonna nera eh e ora dico uno che ha madonna bianca uno che ha madonna nera uno che ha madonna zara ma quante madonne e guarda che questo questo qua è proprio adorazione delle statue non dell'immagine che dice qualcosa ma è proprio la statua adorano eh mi viene sempre dito ma quante madonne che sei madonna nera madonna zara madonna bianca madonna cisco scova madonna eh e ora dico ma tu ti chiedi tutte queste madonne ma come sei che si fa ecco tutto qua e di tante robe ma ti fa tante domande tante ma non teca mai è vero ti chiedi tante domande e basta è vero ciao 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 ci salite grazie ciao scusa scusa tanto quello sulle madonne è molto semplice pronto ci parla è previso dimmi tutto posso consigliare un libro a tutti i catoici si ecco allora che vadano a prendersi delle baldini castogli Maria Pia del Carmen Tapia eh è la spittrice oltre la soglia una vita nell'Opus Dei eh l'abbiamo già citato un sacco di volte ah si si e io ti do un titolo per te così aprono gli occhi vuoi vuoi che ti dia un titolo per te invece aspetta metto giù vado alla radio se no non sento d'accordo ciao 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 aspetta gli do un attimo il titolo a sta ragazza pronto se adesso mi senti ti do il titolo se dopo non hai sentito te lo ridò ti do il titolo è un uchi per il regno dei cieli non mi ricordo più chi l'abbia scritto ma tu vai da qualsiasi libraio è un uchi per il regno dei cieli e leggi la storia della chiesa cattolica fatta da una fatta da una da una teologa il titolo è è un uchi per il regno dei cieli qualunque libraio te lo dà fate ragazzi a voi la voce beh scusami volevo se no troppo poca memoria mi sfugge no volevo dire una cosa che la definizione circostante mi calza molto di più che assoluto non so perché perché assoluto l'uno eccetera mi dà il senso sempre di una persona che sta sopra di me per quanto grande e per quanto completa sia ancora adesso il termine assoluto non mi va più bene sarà perché sono un bastardo io sono sempre un po' in divenire non mi sento mai franco franco usa il termine assoluto un po' diversamente circostante circostante a me piace ma è una definizione così simpatica a me sapete circostante mi dà il senso dell'indefinito mi prego e del tutto a livello panteistico cioè sono un panteista dentro veramente mi sento ma a livello panteistico basta non caricare assoluto di connotati personali sì 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 è mica detto che l'assoluto abbia per forza un cazzo no 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 ma proprio la definizione circostante mi piace molto ecco mi voglio dirti che se no hayo i preti a morir acceso con tutte le monale che gli ha fatto e che ancora gli farà perché hai solo moni ma sarei certi che ti togli affè i valori importanti fai parte del loro ti auguro comunque che ti ripensi meglio, che ti rifletta di più su quello che ti dici, perché ti sento dire anche tante robe che non so se siano tutte vaide, auguri comunque, vai a cercarle, vai a vedere se se non sono vaide, no, 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 non ha senso, va bene, d'accordo, ti dici delle robe, tante robe che non ha senso, ti salti dei paio in frasca, non ha senso, comunque auguri, grazie, è una riflessione più seria, va bene, il sinonimo comunque di onestà non è detto che provenga da un religioso, io penso che anche un ateo può essere onesto, non credo che tutti gli atei siano disonesti per esempio. Allora, ci ha dato un consiglio di, che cerchiamo di parli in frasca? Beh, parlando di cronaca, da esseri relativi possiamo... Andiamo a un ateo anche, i tibetani pagano oggi per gli antichi peccati, dal gazzettino del 4 febbraio 1998, Dalai Lama dice, se oggi siamo così trattati male, noi paghiamo per i nostri peccati. Ricordiamo come il Dalai Lama e i monaci buddisti hanno effettivamente stanno dichiarando, facendo una vera e propria guerra civile per poter riavere gli schiavi in Tibet. Mi dimostrano che non è vero, per me è così, la schiavitù è stata dichiarata fuori legge per legge, soltanto dall'invasione inglese, per cui fino all'invasione inglese degli anni 30 la schiavitù era ancora in corso nel Tibet. Sì, poi ricordiamo che anche il cosiddetto buddismo tibetano è proprio una delle forme di buddismo che ha sempre meno a che fare con il buddismo e di più con la religione bono. Esatto. Ben, con la ben, sì. E quindi c'è la religione bono una cosa, il buddismo un'altra. Sì, sì, certo. Per cui, cioè io ho molto disprezzo per il Dalai Lama. Comunque lui afferma che i tibetani pagano oggi per gli antichi peccati, siccome tu hai peccato, un po' come prima, no? Tu hai fatto peccato, dunque ti nasce il figlio deforme. Siamo un po' più o meno. Io sono Dalai Lama e tu mi devi portare in braccia. Vero. Eh, perfetto. Molaco del 600, sepolto a Vienna e venerato nelle Venezie come in tutto l'ex impero asburgico. Fece guerra all'Islam, negati gli altari a Marco Daviano. È quello del cappuccino con brioche, più o meno, tanto per capirci. Vediamo un attimo, pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno Giulia. Dimmi tutto. Senti, io non ci credo a niente a tutte queste cazzate che preti, fratti, buddismo, ateismo, islaismo. Io non ci credo a niente a queste cose. Sono tutte cose fatte per imbonire la gente, capito? Dimmi, dimmi. Io non ci credo a niente. Eh, vabbè, d'accordo. Ma io ti abbraccio veramente. Ma non ti sento. Veramente merito, perché queste persone così semplici. Non ti sento. Dimmi, dimmi tutto. Non mi senti? E ma dopo fischia, vai te. Ecco, sì. Io voglio dire, non ci credo a niente a questo islamismo, buddismo. Sono tutte cazzate per me. Sì, ma anche il cristianesimo è una cazzata. Sono d'accordo? Eh, questo, stessa roba, stessa roba. Sì, bravissima. Guarda, io quando vengono fuori, che fanno tutto un sacco di... mi fanno ridere. Cioè, e dopo però resta da costruire la vita. Questo è il vero problema. Ma no, ma stanno un po' a sentire. Ma chi sono loro per dire questo? Ma dov'è? Chi è venuto giù dal cielo? Sì, però ti rovinano la vita. A me non è di sicuro, guarda. Ah, ma non farti paranoie tu, che sei in gamba. Eh, anche a noi, anche a chi non pensa. Guarda, a me proprio, non me ne frega proprio di dire, guarda, ti dico solo che mi sembrano tutti mentecati. Vabbè, sono d'accordo con te, però, dopodiché resta il tuo lavoro per costruire la vita. Se non c'è il tuo lavoro per costruire la vita, loro vengono sempre, comunque. No, ma, sì, io, e beh, questo lo so, purtroppo. Per cui, dipende dopo da te. Cioè, il fatto che tu dici, io loro non li accetto, dopodiché tutta la responsabilità ricade sulle tue spalle. Eh sì, perché loro vogliono comandare, capisci? Vabbè, io sono d'accordo che tu puoi dire, non voglio che loro comandino. No, no, ma comandano lo stesso. Ecco, però anche se loro comandano, dopodiché tu dici, io loro non li accetto, però dopo devi essere tu a costruire la vita. Cioè, tu non puoi dire, io mi ritiro su una montagna, non puoi fare... Ma no, ma no, ma io, ma io, guarda, io lo dico in faccia, non mi interessa niente. Eh, però, loro cercano sempre di avere qualcosa da... No, 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 a me non mi incantano. Va bene. Non mi incantano perché io non ho mai visto niente di quello che dicono loro, capito? No, ma tu neanche lo vedrai, o meglio, un giorno vedrai qualcosa e penserai, porca miseria, vuoi vedere che avevano ragione? Ma, ma... Assisterai alla morte di un tuo parente e dirai, porca miseria, se qualcosa... Ma è la morte, la morte viene purtroppo per tutti, non siamo nessuno. Vengono le bestie, vengono a noi, le bestie vivono a 13 anni, 14, 15, quella vive sempre... Ma è il loro DNA, questo, come l'abbiamo noi, cosa vuoi, ma dopo non c'è niente altro... Va bene, d'accordo, ti ho detto a non farti fregare però, eh. Eh, come è il nome di questa persona? No, ma guarda che io... No, scusa, noi non chiediamo mai... No, 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 ma volevo salutarla solo perché... Scusami, ciao, ciao, per me... Comunque è semplice, ma guarda... Sì, d'accordo, è una persona semplice e piacevole, però non possiamo far casino, eh. Dai, eh, andiamo avanti ancora... Pronto? Dio, cosa che ne pensi dei buoni e dei cattivi? Beh, io sono buono e tu sei cattiva? Ciao, grazie. Io sono cattiva. Sono cattiva, ciao. Ciao. Io sono cattiva. No, il problema è questo, no. Per giocare a controllare le persone, eh, chi controlla le persone si spaccia sempre per buono e accusa il controllato di essere cattivo, di essere malvagio, di essere perverso. Voi guardate il Gesù dentro nei Vangeli che quando i farisei dicono, ma scusa, perché tu non rispetti le tradizioni, perché tu non fai quello che fanno gli altri? E dicono, voi parlate malvaggi come siete. Cioè, quando c'è da mettere qualcuno in ginocchio, quando c'è bisogno di colpevolizzare qualcuno, si dice, tu sei cattivo, io sono buono. Insomma, malvagio come sinonimo di mona. Voi cosa parlate, mona che siete? Tu sei cattivo. Io sono cattivo. Tu sei cattivo. È questione anche di farsi paranoie. Però non sono mona. Esatto, si gioca a fare le paranoie, è vero. No, ma siccome io ti dico una cosa, te l'ho detto ancora, provengo da una famiglia ultracattolica, però non sono stati in grado di accalappiarmi i preti, come mai? Cioè, le variabili soggettive, vediamo. Appunto, le variabili soggettive. Porta. Salve. Ciao, dimmi. Ciao, ecco. Volevo dare la mia solidarietà per quanto tutto quello che dite. Aspetta perché ho un ritorno, che ho la macchina, sono in macchina. Eh, spengo. Sì. Ecco, niente, volevo dare la mia solidarietà e soprattutto dire per quella persona che ha chiamato prima che parla di valori. Eh. I valori sono a prescindere dalla religione. Cioè, io non credo, non credo in Dio, non credo soprattutto nella religione cattolica, proprio la trovo oltremodo ridicola. e ci sono persone che vengono a parlare di valori, di valori basati su cosa? Sulla religione cattolica. Cioè, su tutti quei riti assurdi che ci sono, il battesimo, la cresima, tutti quei simboli strani che poi parlano di inciviltà dei negri che sono in Africa e dopo loro fanno le stesse identiche cose, parlano di inciviltà. No, peggio. Peggio, esatto. Cioè, è quello che non riesco a capire, accettare tutto, tutte le disgrazie che ci sono ogni giorno, in ogni famiglia, tutte le pene che si devono sopportare, i dolori che ci sono e ancora bisogna ringraziare Dio. Cioè, è quello che io trovo assurdo, ancora bisogna ringraziarlo. Cioè, io mi chiedo, ma è possibile che un essere umano mi venga a dire, eh, Dio, io ho appena avuto mia madre che è morta, che è morta in un modo orrendo di tumore dopo essersi consumata e c'era il prete che entrava nella stanza con il croce fisso vestito, mascherato come si mascherano loro e mi vengono a dire, eh, così fanno quella faccia di cosa, ma cosa vieni a fare, ma cosa vuoi, ma io non lo so, io trovo che sia tutto talmente assurdo quello che vogliono farti credere, quello che vogliono farti digerire, che mi stupisco che ci siano delle persone che ancora ci credono e credono in tutto quello che loro dicono e la persona di prima viene a parlare di valori, ma i valori sono a prescindere dalla religione. Sei in ascolto? Sì, beh, mi accendo la radio. Accendi la radio che ti leggo una cosa per te. Sì, va bene, allora spengo. Grazie. Prima di prendere un'altra telefonata per questa amica, durante la conferenza di Treviso abbiamo sostenuto, abbiamo sostenuto all'interno dell'orrore della concezione religiosa cristiana cattolica, abbiamo sostenuto il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di mettere in ginocchio i bambini negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, gli si consente di agire massicciamente indisturbato nelle galere, negli ospedali e negli ospizi dove non c'è il rispetto religioso, ma si pratica massicciamente il ricatto sociale. Pronto? I valori che intendevo meno, i seab, il battesimo, accresimo e tutte queste robe che hai caduto io, ma i biseli, l'onestà, la solidarietà, la famiglia e altre storie, mette tanto in discussione queste robe qua. I valori veri, le mie storie mettono le miei ospedali e negli ospedali e negli ospizi dove non c'è troppo parecchio in discussione tutte queste cose, e anzi mettono in discussione anche il meccanismo fondamentale che sta all'argomento. Ora mi ti dico che prima di chiacquare tanto, prova a pagare le persone, ti andare magari in Africa, a rimetterli a vita, non per insegnarli a regione, a parlare da mangiare. Scusa, tu lo sai con chi stai parlando? No, non me ne frega niente. Ah boh. Non me ne frega. In Africa, magari per portare un po', a battere gli alberi, farli lavorare, farli vestire a 40 anni. Sì, vendere i bambini come schiavi, stuprare i bambini, costruire disperazione, questo è vergogna. come bestie, gli manca la parola. Questa è vergognosa per me. Pronto? Pronto? Non è disordato. Non sono sempre io, perché rispondo alla persona che ha risposto a me. No, ma dai. Voglio solo dire che i valori, io che non credo, sono onesta, non ho mai ucciso nessuno, non ho rubato, questi sono valori che uno ha dentro, a prescindere dalla religione, perché se io dovesse badare a quello che dice la religione che mi è stata insegnata da quando sono nata, cioè sarei molto più cattiva, perché dovrei adorare, dovrei ringraziare una persona che in realtà cosa mi dà? Per mangiare devo lavorare, mi rompo le balle dieci ore al giorno, ci sono solo problemi, qualche piccola toglia, qualche soddisfazione, e chi devo ringraziare? Mi dice chi devo ringraziare? Cioè io, i valori, i miei valori sono miei nei confronti del prossimo, ma a prescindere dalla religione. Non è Gesù che mi fa non rubare, non ammazzare, che mi fa tutte quelle cose, è perché io ho rispetto per il prossimo. Sì, e loro non hanno rispetto per le tribù africane. Esatto, ma figuriamoci, nei quanti laici sono andati senza parlare di religione ad aiutare la gente che sta veramente male? E' il contrario, quanta gente è andata là portando la bandiera della religione e invece combinando solo guai e basta? Questo è questo che vorrei che capisse la gente. No, non lo capisco, no. Ecco, salve, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Claudia? Dimmi. E ciao. Ciao. Ascolta, ma, eh, volevo chiederti, ma, la religione cosa sta? Scusa, la religione? Scusa. Le religioni a cosa servono? Allora, la religione rivelata è oppio dei popoli, servono per mettere in ginocchio le persone. Ma tutte le religioni servono per opprimere e riprimere i popoli. Specialmente le monopoli. Mi senti? Mi senti? La religione, la religione rivelata serve per mettere in ginocchio le persone e basta, per distruggere la loro relazione col mondo. Ho capito, ma tutte le religioni hanno questo. Meno che la nostra. O no? Meno che la nostra. Mi senti? Sì. Meno che la nostra. No, ma io trovo che tutte le religioni hanno uno scopo di mettere in ginocchio le persone. Sì, tutte le religioni rivelate hanno questo scopo. Ecco. Ma sai perché? Perché io ho fatto un parallelo, no? E prendiamo il popolo ebraico, no? Il popolo ebraico per duemila anni è stato schiavo in ginocchio e tutto quanto. Ma non è mica vero, eh? Eh? Non è vero. Non è vero. Come non è vero? Non è vero. Non è mai stato schiavo, veramente. Beh. Infatti, guarda, ti dico che prima di andare via dall'Egitto, prima di andare via dall'Egitto, Mosè dà ordine ai vari schiavi cosiddetti di andare dal vicino a farsi dare l'oro e l'argento per portarlo via. Cioè, se uno è schiavo, non ha oro e l'argento, non ha un vicino, non ha capi di bestiame da vendere o case da vendere. E non è neanche schiavi da vendere. Guarda che questo è Bibbia, eh? Se vuoi te lo trovo fuori. Sì, no, ma io quello che volevo dire è questo. Siccome, ecco, io, pensami, forse, concludere il discorso, io quello che volevo dire è questo. Che a un certo punto, un popolo, come il popolo ebraico, che è stato perseguitato in tutto il mondo, no? Per millenni. E a un certo punto sono stati proprio degli atei, degli ebrei atei, proprio convinti, perché io ho studiato, ho letto tutte le biografie di vari, i capi di stato di... È vero, è vero. Erano altri convinti. È vero. Quando hanno abbandonato l'idea di Dio, che sono riusciti ad avere una loro patria, una loro cosa, perché prima aspettavano l'aiuto da Dio, quando poi hanno capito che Dio non esisteva, che non li avrebbe aiutati perché non esisteva, si sono rimboccate le mani che hanno fatto da soli. È vero. Lo Stato di Israele è nato come operazione dei bolshevichi, dei russi, prima che arrivassero gli inglesi. Mi senti? Sì. Lo Stato di Israele è nato come operazione di sinistra, fatto dai russi, dei bolshevichi, prima che arrivassero gli inglesi, dopo gli inglesi e gli americani ci hanno messo le mani. Ma l'operazione iniziale era fatta da sovietici, da socialisti. Sì, beh, su questo sono d'accordo. Però io voglio dire questo, che quei primi statisti israeliani erano atri. Sì, sì, è vero. No, cioè, parliamo da Ben Gurion o tutti gli atri che sono... Erano socialisti, sì, sì. Ma guarda me, erano atri comunque? Sì, non erano... Perché se fossero stati credenti non avrebbero affatto quello che avrebbero fatto. È vero, è vero. Non sarebbero arrivati. Cioè, voglio dire che la gente riesce a... Se riesce a liberarsi di Dio, vive meglio. Riesce a costruire se stessa, è vero? È vero, vive meglio. Certo. Perché a un certo punto, io penso che il coso che... E anche quel signore che ha telefonato prima, che ha detto tutte le cazzate, che ha detto... Vabbè, insomma, quel po' che ha detto, no? Perché vuoi parlare così? Vanno così, perché gli hanno insegnato a parlare così? Non aveva aggiornato con la sua testa. Perché se avessero ragionato con la sua testa. E avrete capito che quello che tu stai facendo è un grandissimo lato di coraggio. Ma sai, quel signore probabilmente ha bisogno di mettere in ginocchio troppo di gente. Ha bisogno di stare ancora in ginocchio lui. Esatto. Non lo sa perché... Comunque sono sue scelte. Io garantirò sempre il suo diritto a mettersi in ginocchio. Non avrò mai a rompergli le scatole. Però lui non deve romperle a me. Eh, ho capito. Però io voglio dire questo. Io nella mia vita, io ho avuto un padre, a te ho convinto. È una madre religiosa. Sono cresciuta con questo dualismo in famiglia. Però io ti posso garantire che la persona onesta non era mia madre, ma era mio padre la persona onesta. La persona retta, la persona con dei principi morali, veramente. Di onestà e di considerazione per gli altri, bontà, di... Perché tuo padre era responsabile di se stesso, no? Tuo padre probabilmente era responsabile di se stesso, mentre tua madre si riferiva, si nascondeva dietro a Dio. E' quello quel punto. E allora io ho preso questo esempio, no? E con questo esempio in famiglia ho costruito il mio modo di pensare. Non me lo sono riuscito a imporre dagli altri. Certo, hai fatto bene. E a questo punto io dico questo, che la gente quando parla, io penso che parli più per una questione di... Non lo so, più per abitudine, ecco. E per pigrizia mentale. Perché se veramente pensassero, veramente ragionassero su quello che stanno facendo, su quello che stanno dicendo, non farebbero quello che fanno e non direbbero quello che dicono. Vedi amica. Ciao. Io però sono sempre una persona molto fortunata, perché questa persona si è limitata a parlarmi. Un secolo fa mi avrebbero messo in galera, un secolo prima mi avrebbero bruciato. Per cui io sono fortunato. Però Davis, pronto? Pronto. L'evoluzione sovietica, tra l'altro i soviet, è stata messa in moto dagli atei, non dai pagani. E gli atei sono i veri cristiani in acquato, perché il Cristo non è con la sua chiesa. La sua chiesa è schierata con i potenti della terra, con i lobby, con quelli che fanno la beneficenza. Va bene. Ricordi che il Cristo è il vero uomo esistito su tutta la faccia del mondo, porca. Per me è un infame, però ognuno ha la sua opinione. Va bene, per te è infame. Ok. D'accordo. Comunque ricordo che l'Unione Sovietica ha detto tra l'altro gli atei che sono i veri cristiani in acquato. Io non dico niente, non metto lingua. Non sono parani, comunque. Senti, sei in ascolto? Sì. Io ti invito ad ascoltare degli atei, che è l'aula e Ivano, domenica sera alle ore 18. E loro ti spiegheranno la loro politica. E forse anche tu sei un cristiano in acquato, cioè un vero cristiano. Se bevi un altro litro di vino, vedrai che forse... Ciao, ciao. Ciao. Aiuto. Aia. Sì, beh, in effetti... Sì, ma sono tutte chiese. Possono servire in una situazione storica e dopo cambiano. Sì, è vero, è vero. Libertà per i cattolici. Attenzione, vediamo. Pronto? Ciao Andrea. Ascolta, io voglio dire che intanto se io parto da casa per andare a fare del bene in Africa, vado e non glielo rifaccio a nessuno. Tanto. Anche questa è una buona cosa. E poi voglio dirti, ormai all'alba del terzo millennio la chiesa mi puzza di vecchio. E ormai si stanno sputtanando da soli, perché il fatto stesso che noi stiamo qui a parlare di queste cose qui, vuol dire che non ci credono... Cioè, io penso una buona parte di persone che ormai non ci credono più a questa gente qui. È vero. Ormai puzza di vecchio all'alba del terzo millennio. E bisogna stare attenti perché qui il colpo di coda di questa gente qui sarà tremendo. Sì, quello più. Perché prima di cadere vedrai che succederà qualcosa. Perché secondo me ormai sono arrivati al culmine e adesso ci sarà Sarsone in discesa. E quindi prima di cadere, sai che quando cade un impero... Qua vanno molti mochi e molto appunti. Eh, hai capito? Sì, sì, d'accordo. E ho paura che con l'Iraq lì... Ma, ciao. Ciao Andrea, grazie. Eh, Andrea è sempre puntuale nelle sue cose. Pronto? Ciao. Ciao Domi.